ciao ragazze benvenute in un nuovo video allora sorpresa eccomi qua oggi ho deciso di mostrarmi in volto perché comunque ho provato i prodotti di zensore non mi sembrava giusto anche per loro recensire dei prodotti solo a voce senza farmi vedere quindi ho preso coraggio ma si dai facciamoci vedere in volto allora io questa recensione con zensore l'ho fatta bene o male circa due settimane fa sono stati molto gentili all'anno sono stata io che ho fatto richiesta loro sono sincera l'hanno accolta volentieri e niente chiuso questo discorso passiamo ai prodotti che io ho provato allora la prima cosa ce l'ho qua di fianco la prima cosa che io ho provato è stata l'acqua di amamelide non so la vede ecco si vede ok l'acqua da amamelide che poi la stessa acqua io l'ho versata qua in uno spruzzino ma solo per comodità mia personale poi ognuno la può usare come vuole allora io ho usato questa acqua da amamelide dopo essermi depilata quindi ho fatto i peli sulle gambe li ho fatti normalmente come sono uscita dalla vasca ho preso asciugato le gambe e infine ho spruzzato quest'acqua qua sopra la pelle così con lo spruzzino e devo dire che mi sono trovata da dio veramente veramente buona allora diciamo l'odore forse non più di tanto perché ricorda tipo la verdura però comunque il suo effetto lo fa allevia tantissimo rossori tanto che gliel'ho fatta provare anche a mio fratello mio fratello che di cose naturali insomma è un po' però vabbè dopo averlo insomma convinto gli ho rotto un po' le scatole si è deciso di provarla quindi l'ha provata anche lui dopo barba dopo che si era fatto la barba e niente si è trovato bene anche lui cioè sinceramente si è trovato veramente bene infatti anche lui mi ha detto Elena madonna come mi son trovato bene ero lì alleluia meno male vabbè insomma ci siamo trovati bene quindi se devo dare un voto dall'1 al 10 do un 10 sicuramente perché è veramente buona passiamo all'altro prodotto l'altro prodotto che è questo è il l'olio di mono e de tiare questo qua ed è da 50 ml come potete vedere allora questo olio è ottimo sia per i capelli che per il corpo e anche per tenere la bronzatura d'estate siccome adesso fa un freddo della miseria allora cosa ho fatto ho pensato di usarlo per le zone secche del corpo quindi quando vado in doccia mi gratto con il guanto marocchino apposta quello nero della mamma poi esco a pelle umida metto questo olio e devo dire ragazze veramente è veramente ottimo cioè anche il profumo io lo apro davanti a voi cioè è una roba che a me personalmente cioè è paradisiaca è veramente buona tanto tanto che io tra l'altro quando ho aperto il pacco che mi era arrivato si sentiva l'odore veramente di questo tantissimo cioè una roba incredibile peccato che per i capelli però non l'ho usato perché alla fine sono solo 50 ml io avendo appunto tanti capelli come potete vedere e avendoci rifolti tantissimi lunghi non l'ho usato per il semplice fatto che mi sarebbe andato via in un'applicazione quindi sarebbe stato sprecato anche qua se devo dare un voto dall 1 al 10 un 10 pieno perché è veramente buono ragazzi se voi andate sul sito zen store e magari ci fate degli ordini provate a prenderlo veramente questo lo consiglio è troppo buono passiamo all'altro prodotto l'altro prodotto è l'olio di lino l'olio di lino allora non ha forse profuma leggermente ma neanche più di tanto diciamo che è in odore allora con questo mi sono trovata bene anche con questo prodotto allora io sono solita provarlo come per l'olio di mono e de tiaree allora anche quello l'ho provato nello stesso modo sono andata in doccia finito di grattarmi col guanto della mam con lo marocchino opposta sono uscita e niente a pelle umida appunto l'ho provato massaggiandole sulle zone secche del corpo come gomiti talloni e quant'altro ginocchia o altre parti del corpo secche e mi sono trovata bene anche lui lascia la pelle morbida oppure ho aggiunto tipo un 20 gocce in uno shampoo neutro da un litro e anche lì veramente 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 buono lascia i capelli veramente morbidissimi e mi sono trovata bene quindi se devo dare tranquillamente un voto dall'1 al 10 do 10 perché è veramente veramente buono ma avrete sentito dire veramente tantissime volte però è così l'altro prodotto che ho provato è la maca ho chiamato anche bring garage insomma ci hanno nomi un po' strani questi indiani e niente lo vedete ok con questo ci ho fatto un video anche sul mio canale un video su come se non sbaglio come rafforzare i capelli una cosa del genere allora premetto questa qua l'ho trovata un po' sabbiosa ma neanche più di tanto però insomma se dobbiamo dire le cose come stanno dobbiamo essere coerenti e essere sinceri io dico che sì mi sono trovata bene però è un pochino sabbiosa per il resto l'effetto sì cioè l'effetto lo dà nel senso che comunque lascia i capelli più lucidi li rinforza e quant'altro insomma poi potete metterle insieme a varie erbe come l'amla il gasul insomma tutte le erbe che volete col nim o quant'altro e se devo dare un voto dall'1 al 10 su quest'erbetta sulla maca do un 7 solo perché c'è un pochino di sabbia solo per il fatto che è sabbiosa ecco altrimenti era anche lei un 10 come gli altri l'altro prodotto che sto guardando adesso in questo preciso momento è l'ennara air wash per il quale io impazzisco cioè veramente ragazze questo qua lascia i capelli profumatissimi agisce come lo shikakai e la rita cioè è un'erba lavante solo che a confronto dello shikakai e della rita che sono erbe che non contengono altri mix tipo non contengono amla ibisco quant'altro questo qua come vi faccio vedere vedete scusate sempre per la luce pessima però vedete qua così di fianco contengono altre erbette come amla punte ibisco brami e shikakai insomma è un'erbetta lavante con varie erbette ecco solo che veramente profuma tantissimo anche qua però la pecca è la sabbietta che c'è all'interno che tende a far calare un po' il prodotto insomma però anche questo è buono se devo dare un voto da l'uno al dieci personalmente è un otto anche lui perché comunque è sempre quello la solita pecca appunto vi ripeto è la troppa sabbietta che c'è all'interno poi per il resto per l'amor di dio lasci i capelli profumatissimi li lava molto bene li lava a fondo e niente mettiamolo da parte e andiamo all'ultimo prodotto l'ultimo prodotto è il katam questo qua questo qua come potete vedere io come potete vedere anche sotto alla luce adesso non so se si ecco rosso io ho ottenuto questo risultato grazie al katam e avevo fatto anche un video su youtube appunto come preparare l'enne a tono freddo con fiori di bisco e katam questo mi son trovata veramente veramente bene infatti come sempre io do i voti dall'uno al dieci li do tranquillamente un dieci non ha sabbietta si stende che è una meraviglia e si mescola tranquillamente l'unica cosa che mi sento di dirvi è che se volete fare un nenne a punta a tono freddo non usate molta percentuale di katam perché potrebbe scurirvi troppi capelli infatti io se vi ricordate bene di katam ne ho usato il 20% quando ho fatto il video appunto per cercare di donare riflessi violacei anche perché il katam tinge di castano violaceo e niente ragazzi mi sembra che questo sia tutto spero di esservi stata utile sotto nell'info box io vi metto il link diretto al sito zen store che insomma se volete potete fare acquisti per natale acquisti per voi insomma il vostro portafoglio vi ringrazierà e niente spero di esservi stata utile finalmente appunto ci siamo conosciute e noi ci vediamo alla prossima ciao